PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Ciao e benvenuto alla nuova puntata di PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici sul processo telematico e il mondo digitale. Io sono Francesco Posati al microfono, autore e voce del podcast. Dall'altra parte del monitor c'è Marco Pennacchini, designer del suono e curatore della rubrica PCT Digitale, dove ascolterai le ultime news sul mondo digitale per alimentare il tuo essere avvocato tecnologico. Questa nuova puntata prende spunto dalla mini pillola che Marco ha dedicato nella puntata 38 sul CryptoLocker. Il 2017 è appena iniziato e la cyber security si conferma sempre più tema centrale del nostro quotidiano digitale. Ho notato che gli avvocati tralasciano la sicurezza informatica perché manca la consapevolezza che le minacce virtuali hanno conseguenze reali. Alzi la mano chi utilizza un antivirus professionale. Se tu sei un avvocato tecnologico sono certo di sì, almeno lo spero. La realtà è un'altra tra i colleghi. L'abitudine dilagante nel caso di si adottasse un antivirus è quella di scaricare la versione free reperita su qualche sito compromesso. Infatti perché pagare qualcosa quando è invece disponibile gratuitamente e ci protegge lo stesso? Questa è la gradenza popolare come ci ha ricordato Valerio Cervo nella puntata 36 come proteggere le nostre password. A breve ti preannuncio che in tema sempre di password il podcast ospiterà anche l'intervento dell'avvocato Matteo Luigi Riso che risponderà alla domanda Ma veramente esistono le password sicure? Non ti anticipo nulla, continua a seguirmi. Ma prima di iniziare voglio ringraziare te e tutti coloro che mi stanno ascoltando e mandando i loro feedback. Ti ricordo sempre che puoi riascoltare le precedenti puntate collegandoti al sito avvocatotecnologico.it avvocatoandreani.it su suncloud.com slash fposati e su spreaker.com oppure mentre stai correndo o andando a fare la spesa o dirigendoti al lavoro tramite le app negli smartphone che raccolgono i feed dei podcast basta cercare PCT facile riconoscerai la copertina con la mia faccia e le cuffie in testa sostieni anche il podcast tramite una recensione a 5 stelle su iTunes anche la tua recensione è molto importante perché fa conoscere agli altri utenti questo progetto che si basa sulla passione degli autori e sul tuo contributo nella descrizione del podcast troverai un link al tutorial che ha realizzato Marco su come rilasciare una recensione in iTunes oppure condividi la puntata che stai ascoltando nella tua rete sociale oppure finarsi in crowdfunding l'intero podcast su patreon.com slash fposati o le pubblicazioni delle singole puntate tramite la pagina paypal.me slash fposati slash 5 come vi piace sempre a me dire neanche nelle precedenti puntate le grandi azioni iniziano sempre dai piccoli gesti scegli tu come contribuire al podcast per lasciare insieme il segno in quest'era digitale iniziamo adesso questa nuova puntata la sicurezza informatica occupa sempre più le croniche dei giornali basta citare il caso occhio nero i fratelli romani che hanno tentato di spiare i gangli dello stato italiano tramite malware riguarda questo caso lo sai da dove è partita questa vicenda leggendo l'ordinanza del jeep che ha convalidato il fermo gli hacker romani avevano compromesso l'account mail di uno studio legale guarda caso da cui facevano partire gli attacchi agli obiettivi scelti di fatto i due hacker hanno bucato l'account mail di uno studio legale che non aveva adottato le misure di sicurezza adeguate allargando il fronte nel gruppo facebook pct il processo civile telematico è stata diffusa la notizia che il più grande ordine forense d'europa quello di roma è stato ostaggio di un attacco informatico che ha criptato molti dati dell'anno 2016 sono in corso le indagini della pulizia postale dopo la denuncia eppure la sicurezza informatica non è percepita come un valore importante fino al verificarsi dell'evento dannoso ossia quando ormai la situazione è compromessa bisogna incominciare a chiedersi oggi quanto è importante fare una copia di backup dei miei dati o quanto è utile avviare nel proprio studio un corretto sistema di conservazione digitale dei documenti la memoria digitale ha tanti vantaggi prima fra tutti la capacità di archiviare all'infinito le informazioni che immagazziniamo quotidianamente nei nostri hard disk tuttavia ha anche molti rischi infatti se prima il problema maggiore della conservazione dei documenti era il rischio di usura del supporto oggi riguarda la semplice e possibile cancellazione completa dei contenuti stessi dell'informazione, del dato perdiamo l'informazione non solo c'è anche l'obsolescenza tecnologica oppure i siti chiudano e che determinate informazioni che le informazioni vengano deliberatamente cancellate ad esempio per censura del provider che fino a ieri ti ha reso gratuito il servizio e che domani ha chiuso o che ha cambiato la policy in contrasto con le tue pubblicazioni o anche che i nostri dati siano cancellati o strafugati da un attacco hacker e qui mi ricollega al tema della puntata sulla sicurezza informatica ma quali sono le cifre del cybercrimine? Eurispes ricorda che il cybercrimine si conferma la prima causa di attacchi gravi a livello globale attestandosi al 68% dei casi nel 2015 era ferma al 60% solo nel 2014 la ricerca eseguita dall'osservatorio di information e security del Politecnico di Milano evidenza che il cybercrimine ha effetti decisamente pesanti ed evidenti nel nostro paese solo nel 2015 sono stati provocati danni pari a 9 miliardi di euro numeri da manovra finanziaria di uno stato mentre il mercato online si sviluppa e cresce a ritmi più veloce gli utenti non sono ancora in grado di proteggersi di fronte alle più temute minacce del web gli investimenti rimangono inferiori a un miliardo di euro sebbene la crescita della navigazione in mobilità sia esponenziale a dimostrazione che le persone sono più connesse anche per la facilità di accesso alla rete tramite gli smartphone StatCounter ha evidenziato che per la prima volta nella storia senti bene ci sono più accessi ad internet da dispositivi mobile che da computer il traffico combinato di smartphone e tablet infatti rappresenta ora il 51,2% del totale degli accessi ad internet insomma gli utenti vedono sempre più internet con gli occhi da mobile anche l'Italia è sempre più dipendente da internet e dal suo ecosistema sono infatti ben 45 milioni i dispositivi immobili connessi al giorno e il mercato cloud guadagna oltre un miliardo e mezzo di euro tuttavia questo aumento di persone connesse si scontra con il ritardo della sicurezza informatica a dare risposte pronte eppure qualcosa si muove come ci ricorda l'avvocato Stefano Mele esperto di sicurezza informatica dal suo account facebook cito il nuovo approccio strategico del governo italiano in materia di sicurezza cibernetica sta prendendo finalmente forma in queste ore dopo che il comitato interministeriale per la sicurezza della repubblica ha approvato il nuovo programma nazionale per la cyber security il nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri del governo Gentiloni ha dato ufficialmente il via ad un programma per semplificare e rafforzare la sicurezza cibernetica in Italia anche Andrea Rigoni su AgendaDigitale.it approva il rafforzamento dei poteri di coordinamento del dipartimento delle informazioni per la sicurezza il DIS e l'AGID l'agenzia dell'Italia Digitale accorciando la catena di comando per agevolare l'esecuzione del piano nazionale su cui ora si deve spostare l'attenzione prossimi passi, scrive sempre Andrea Rigoni dovranno essere l'adozione di un sistema nazionale di compliance e un modello di difesa avanzato cyber che coinvolga il pubblico e il privato sostenuti dai fondi necessari la cyber sicurezza sarà sempre più tema centrale dell'agenda nazionale non più lasciata al singolo soggetto privato Ruby Bandiera a commento del grande attacco informatico di sempre ossia il furto di mail e password di mezzo miliardo di persone agli AU compreso il numero di passaporto e i dati sensibili di Michelle Obama l'ex first lady ha giustamente sottolineato che oggi la sicurezza informatica deve essere il primo investimento da fare non ci sono scuse una volta le guerre si facevano con le bombe e con i carri armati oggi tra paesi troppo potenti per potersi bombardare senza causare l'estinzione della razza umana si usano altri mezzi si usa la tecnologia si rubano le vite e le identità il 2016 sarà ricordato come l'anno del conflitto tra le grandi potenze nel cyberspazio un terreno, tra virgolette nel quale il conflitto diplomatico e militare diventa conflitto digitale e la cyber war globale uno scenario possibile con effetti potenzialmente devastanti su tutta la vita quotidiana dalla sicurezza degli hub agli aeroporti alle vie di trasporto fino agli elettrodotti e alle utempre più connesse ti lascio immaginare le conseguenze la stessa Nato a Varsavia ha dichiarato il cyberspazio come il quinto dominio sottoposto alla sua protezione militare dopo la terra, il mare, l'aria e le stelle senza poi citare le elezioni dell'ultimo presidente degli Stati Uniti d'America nelle quali, secondo la CIA, la Russia è intervenuta per far vincere il candidato repubblicano Donald Trump il tema è abbastanza importante e perdonerai questa premessa lunga ma puoi capire da solo l'importanza prima di calarci nei numeri del cybercrimine passo il microfono a Marco per la sua rubrica PGT digitale sulle novità del mondo digitale ciao Marco, oggi cosa ci parlerai? sono tutto orecchie, visto che questa puntata nasce proprio da una tua mini pillola ciao Francesco, ciao a tutti gli ascoltatori di PCT facile e PCT digitale ciao da me Marco Pennacchini Francesco oggi stai parlando dei danni del cybercrimine e quindi ho pensato di parlare di privacy però con un argomento un po' faceto, un po' da ridere perché in Germania è uscita questa bambola che si chiama Kaila che è una bambola interattiva, è alta 45 centimetri fa domande e risponde cioè nel senso ti fa delle domande, tu rispondi e lei incamera dei dati perché è collegata tramite bluetooth al computer e quindi ad internet o al cellulare tramite un'app bene, tutto bene, i bambini tutti contenti, tutti felici finché uno studente di legge tedesco, Stefan Hesse ha pensato ma non è chi questa bambola Kaila va a incamerare tutti i dati che vengono registrati? perché potrebbe essere? perché i principali dubbi sono arrivati su almeno tre fronti ossia la privacy perché l'azienda produttrice Genesis Toys e la società che fornisce la tecnologia del riconoscimento vocale, ovvero la nuance non hanno mai detto dove e come vengono incamerati i dati sotto il rischio effettivo che qualcuno possa hackerare la bambola via bluetooth e ascoltare quello che viene detto alla bambola è comunque una bella violazione della privacy e ultimo, ma non in grado di importanza la remota possibilità dimostrata che qualcuno può prendere possesso tra virgolette, praticamente telematicamente diciamo, della bambola e parlare attraverso di essa quindi tutti questi dubbi sono venuti fuori dall'esame di questa bambola è stato visto che purtroppo violava la privacy in numerosi, numerosi ambiti e quindi lo Stato tedesco ha detto una cosa semplicissima ossia, l'autorità garante delle telecomunicazioni tedesca ha appena detto distruggete tutte le kaila che avete comprato proprio così, cioè chi l'ha acquistata dovrà distruggerla non è che la dobbiamo riportare indietro c'è anche quella possibilità però la potete tranquillamente anche distruggere a mani vostre quindi, in chiusura di questa pillola di PCT digitale state attenti anche ai giocattoli che comprate ai vostri bambini, alle vostre bambine soprattutto perché sta per uscire una Barbie parlante che usa più o meno la stessa tecnologia di questa kaila tedesca quindi attenzione ai giocattoli ci spiano grazie Marco per il tuo intervento ti dico subito che ho preso gli appunti per la prossima puntata riprendo ora il microfono ed entriamo nel cuore della puntata sul cybercrimine in cifre stai ascoltando PCT Facile il primo podcast per avvocati tecnologici come ti ho sottolineato non si tratta più di una questione privata relegata al singolo la sicurezza informatica acquista sempre più un valore strategico sovranazionale nel contesto italiano l'aumento per gli investimenti sulla sicurezza informatica sale all'8% tuttavia i danni del cybercrimine salgono al 30% una differenza molto grande che può tramutarsi in una vera e propria emergenza nel nostro paese soltanto durante l'anno passato sono stati registrati più di mille incidenti informatici ritenuti davvero gravi tutte le infrastrutture sensibili hanno registrato un aumento del 150% non sono poi da rilasciare tutte le minacce convenzionali come ad esempio il phishing che ha registrato un aumento del 50% i ransomware sono arrivate ad una crescita superiore al 130% un'azienda su tre è sottoposta ad un rischio elevato di danni del cybercrimine in forte crescita è anche lo spionaggio virtuale aumentato a causa della poca attenzione alla crittografia dei dati cosa che soltanto un'azienda su tre si presta ad organizzare senza parlare poi degli avvocati che solo da due anni usano la firma digitale nel processo telematico e pensano che le firme digitali servano solo al PCT o al PAT uomini d'affari manager ma anche commercialisti e avvocati saranno sempre di più l'anello debole attraverso il quale il cybercrimine entrerà nei segreti delle grandi aziende gli hacker lo usano come cavallo di troia per bucare i piani industriali e di sviluppo delle grandi società come nel caso Occhio Nero erano queste le proiezioni per il 2015 di Raul Chiesa uno dei maggiori esperti di sicurezza a livello internazionale consulente per l'ONU fatto ad ANSA nel mirino dei cybercriminali secondo Raul Chiesa ci sarà anche le government la pubblica amministrazione digitalizzata ma anche l'NFC cioè la tecnologia per i pagamenti in mobilità presente pure sul nuovo iPhone o nelle carte di credito o di debito del proprio studio di credito gli hacker già colpiscono manager e uomini d'affari negli hotel approfittando di ambienti non correttamente presidati dal punto di vista della sicurezza questo tipo di violazione si espanderà verso commercialisti e studi legali spiega sempre Raul Chiesa all'ANSA il cybercrimine non andrà più alla ricerca delle credenziali d'accesso delle aziende bensì dei loro piani industriali di sviluppo e dei loro segreti commerciali più intimi alla fine del 2016 l'Italia era nella rosa dei paesi con la più alta percentuale di utenti colpiti da programmi malevoli il 29% quarto posto nel mondo tra i paesi occidentali più colpesi da ransomware e tra quelli con più computer infettati da botnet eppure in Italia ad avere visibilità sono ancora solo attacchi di natura istituzionale nel 2016 sono diventati di dominio pubblico una cinquantina di azioni contro obiettivi nazionali italiani per lo più di matrice attivista anche tra cui si cita il ministero della difesa subito un attacco nel corso del 2016 così come negli scorsi mesi è avvenuta la farnesina e nel settore giustizia è da registrarsi che già nel 2013 quattro anni fa il sito del tribunale di Milano e quello della polizia penitenziaria finiscono offline sulla home page un messaggio firmato da una branca di Anonymous sullo sfondo l'immagine di V per rendetta e il tricolore ma invece le grandi aziende e soprattutto le piccole e medie imprese i professionisti qual è la loro suddizione? tutto tace scarseggiano numeri ufficiali mentre le vittime non parlano spesso non denunciano il nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati fornirà qualche elemento in più sulla situazione commenta l'avvocato Giuseppe Vaciago Alvise Biffi vicepresidente di piccola industria confindustria ha dichiarato che di ransomware ce ne sono quantità enormi e il 90% di quelli che non hanno backup tendono ad assecondare il ricatto dobbiamo aumentare la consapevolezza degli utenti su sicurezza privacy e gestione del dato un problema che è stato sottovalutato come ci ricorda Ruby Bandiera cito dobbiamo capire che non si tratta di rubare due foto intime a una giornalista che ha un reato contro la persona qua si tratta di avere proprio attentato in un account come quello di Yahoo o di Google si tiene tutto in cloud foto di tutta una vita documenti personali numeri di telefoni rapporti contatti tutto la vita ricordiamocelo la sicurezza dei nostri dati e della nostra privacy deve essere tutelata e non sottovalutata e non perché non abbiamo nulla da nascondere ma perché i dati sono nostri se la polizia entra in casa nostra deve avere un mandato altrimenti è un reato se i ladri entrano in casa nostra per rubare commettono due reati se qualcuno ruba i dati di mezzo miliardo di persone come è successo nel caso di Yahoo non è un reato è una guerra sei ancora convinto che in assenza di un sistema di sicurezza nel tuo studio tu avvocato tecnologico possa stare ancora sereno fammi sapere la tua risposta siamo arrivati ai saluti finali di questa puntata spero che ti sia piaciuta e ti abbia dato gli stimoli giusti per avere consapevolezza in tema di sicurezza se hai bisogno di chiarimento o hai delle richieste specifiche lascia un commento o contattami secondo le modalità indicate da Marco nella sigla di chiusura continua a seguire il podcast e se ritieni utile sostieni il crowdfunding su padrio.com slash fposati o con una piccola donazione su paypal.me slash fposati slash 5 ti aspetto alla prossima settimana ti ricordo che viviamo il futuro digitale ciao segui pct facile su avvocatotecnologico.it e su telegram contatta l'autore francesco posati per idee suggerimenti richieste su telegram.me slash fposati o scrivi a me chiocciola francescoposati.it sostieni il podcast tramite paypal.me slash fposati slash 5 o in crowdfunding su patreon.com slash fposati francesco posati grazie a tutti Grazie a tutti